Curva? Che cos'è una curva? Allora, è chiaro che qui, se avete notato, negli ultimi 15 giorni abbiamo accelerato in maniera impropria il motivo è sempre quello, perché non abbiamo tempo per sviluppare adeguatamente la teoria quindi dobbiamo saltare molte dimostrazioni però dobbiamo riuscire a dare un cenno oltre agli integrali doppi e tripli di cui faremo ancora esercizi alle curve, integrali curvilinei, alcuni teoremi che collegano per esempio le formule di Gauss-Green il teorema della divergenza, almeno l'enunciato al teorema di Stokes e integrali superficie e integrali superficiali Allora, cominciamo con le curve che cos'è una curva? Una curva, noi adesso abbiamo visto le applicazioni da Rn in Rm è una curva, è un caso particolare quando il dominio sta in R ma il tuo dominio sta in uno spazio finidimensionale più grande cioè in R l'applicazione la chiamiamo T FI di T dove T varia tra A e B una curva in fisica la chiamano legge oraria in effetti qua c'è rimasto qualcosa perché la variabile tendenzialmente si chiama T quindi una curva è un'applicazione da un intervallo di R a valore di R quindi il dominio di partenza c'è la dimensione 1 sta nello spazio di 1 dimensionale in arrivo andiamo a finire per prima cosa noi vogliamo che le curve siano almeno continuo eh per quale motivo? se stiamo pensando allora com'è si può visualizzare una curva qui abbiamo FI di A qui abbiamo FI di B o qua potete immaginarvi che il codominio sia in R2 R3 più di R3 non riusciamo a fare comunque la figura quindi noi cosa disegniamo? eh non stiamo disegnando in realtà il grafico no no stiamo disegnando dominio e codo codominio codominio J uguale FI di A B si chiama sostegno della curva allora da ingegneri vabbè che non siete industriali quindi non andate a fare ingegneri ma cagli vi sapete fare un esempio di 24 curve diverse che hanno tutto lo stesso sostegno 24 non è casuale quante sono le macchine di Formula 1 al via 22 o 24 24 vale allora pensate voi ci avete ieri alle come è fatto il circuito di Monte Carlo non me lo ricordo però ieri a che ora aveva attivo? alle 14 eh? alle 15 dalle 15 alle 17 allora c'è il circuito vabbè io disegno Monza che è più facile allora che succedeva? che vabbè ci sarà lo start da qualche parte poi non mi ricordo se gira in senso orario in senso atti orari però tutte quelle leggi orarie hanno tutto lo stesso sostegno e quante volte percorrono quel sostegno? eh dipende quanti giri sono allora mettiamo che a Monza i giri siano 60 perché mi pare che è un circuito abbastanza lungo 59 o cose del genere allora le automobili fanno questo giro tante volte poi magari c'è uno che ne ha visto che ne ha vatti solo 15 perché ne ha vatti solo 15 perché al quindicesimo giro si è rotto il motore e si è fermato lo puoi capire questo dal sostegno? no se tu vedi solo il sostegno per tutte le curve per tutte le macchine che abbiamo fatto almeno un giro il sostegno è tutto il circuito o no poi 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 possiamo dire dal sostegno per esempio se le macchine hanno fatto l'incidente o no no perché come facciamo a sapere se due auto hanno fatto l'incidente avremo due curve f1 di t f2 di t se per un certo t f1 di t è uguale a f2 di t vuol dire che c'è stata la collisima se no no chiaro? fino a che ok quindi disegnare il dominio e il sostegno di una curva abbiamo capito che non ci dà un'informazione completa sulla curva poi altre definizioni elementari sulle curve perché vogliamo che la curva prima di dare altre definizioni perché vogliamo che sia almeno c0 cosa significherebbe che la curva non è c0 per esempio supponiamo che la curva faccia che non è c0 che significa che a un certo punto per esempio può fare un salto allora qua sto arrivando a un certo istante t con 1 con un certo valore e invece poi salto in un'altra parte come si chiama questo? tenere l'asporto quindi non ha senso fisico quindi noi pretendiamo almeno 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 che la curva sia continua naturalmente possiamo pretendere di più per esempio invece di c0 ci possiamo mettere c1 c2 chiaro? però altre definizioni fi si dice aperta se solo se per definizione fi di a è diverso da fi di b quindi nel caso di una curva e invece fi si dice chiusa fi di a è uguale a fi di b va bene? ora si dice chiusa quando fi di a è uguale a fi di b ora le curve che mi danno le leggi orarie delle macchine delle automobili di formula 1 sono aperte o chiuse? normalmente sono chiuse fanno tutti i gran premi alla fine arrivano da dove sono partita a fi di b adesso però dobbiamo avere un'altra definizione ve lo spiego prima a parole e poi diamo la definizione della rica cosa vuol dire che una curva è semplice una curva quando è è semplice? quando non passa due volte per lo stesso punto a meno che non ha fatto tutto il giro e cioè fi di a quali a fi di b è consentito ok? allora vediamo un po' questa curva qua è semplice? no perché io ho detto non passa due volte per lo stesso punto a meno che non partita e arrivi questo qua lei sta arrivando in un punto che non è il punto di partenza e sta passando quindi due volte per lo stesso punto via quindi questo non lo vogliamo una curva che fa così va bene semplice cioè arriva è chiusa arriva nel punto di partenza però poi dopo allora vedete per sapere se la curva è semplice non basta segnare il sostegno se questo è il circuito di formula 1 io lo percorro una volta ed è una curva semplice lo percorro due volte e non è una curva semplice perché a quel punto ripercorro gli stessi punti allora diamo la definizione fi si dice semplice se solo se per definizione fi di t1 è uguale a fi di t2 se solo se t1 è uguale ad a e t2 è uguale a b oppure t1 è uguale a b e t2 è uguale a b quindi cioè gli unici le uniche immagini quindi praticamente una curva semplice è una curva iniettiva a me ci sono solo due per esempio se è aperta allora è iniettiva se è chiusa può non essere iniettiva ma semplicemente perché è partita da è partita da un punto e ne è arrivata allo stesso punto o viceversa è partita scambiando a e b cioè supponiamo che questo sia a fi di a uguale a fi di b no? è chiaro che io se questa curva è semplice la posso percorrere in due modi la posso percorrere così parto da a e quando arrivo a b ritorno allo stesso punto oppure la posso percorrere al contrario e quindi parto da b e quando arrivo a a sono arrivato allo stesso punto ok? quindi questa è la definizione di curva semplice perché è importante questa definizione? secondo voi delle curve noi che cosa vogliamo fare? che ci vogliamo fare con lui? con le curve ci dobbiamo fare una cosa sostanzialmente dell'integrale curvilineo cioè l'integrale di una funzione lunga la curva in un caso particolare di questa integrale è la lunghezza ok? ora prima di vedere questo dobbiamo ancora dare qualche di altra definizione elementare ora per andare a farci a fare la lunghezza agli integrali noi supporremo che fi sia almeno i grassi c1 su ap ok? quindi prendiamo adesso consideriamo le curve che siano di classe almeno c1 poi vedremo consideriamo anche quelle di classe c1 a tratti poi la definiamo tra per adesso non ci deconcentriamo prendiamo quelle di classe c1 allora uno dice quale sarà la differenza tra una curva di classe c0 e una curva di classe c1 beh uno dice quella di classe c1 mettiamo che sia pure semplice sarà bella liscia liscia no? ci può questo essere un sostegno di una curva di classe c1 secondo voi? intuitivamente diremmo di una volta e invece sì ecco andiamo a vedere andiamo a fare un esempio allora innanzitutto curve di classe c1 che cosa c'hanno? c'hanno lo Iacobiano lo Iacobiano in questo caso è il vettore delle derivate perché una curva fi di t come si scrive? si scrive fi con 1 di t fi con 2 di t fi con n di t cioè ha sempre una variabile la sua variabile è t ma c'ha n funzioni coordinate allora chi è il vettore delle derivate? è semplice è fi primo 1 di t fi primo n di t oppure scrivete def con i di t indefi la variabile è una quindi non si parla di derivata ordinaria non di derivata aziale sono le funzioni che sono tante è chiaro? quindi una curva di classe c1 semplicemente ha la derivata con la derivata continua ok? benissimo andiamo a fare questo esempio allora io vorrei avere una curva di classe c1 che abbia questo sostegno ok? cioè il gratifico è il valore assoluto per la meno 1 ma 1 come dovrebbe dire chi è questa? prima di fare quell'esempio se io ho un grafico lo posso vedere come sostegno di una curva certo perché a t posso associare t f di t se questo è il grafico della funzione f di t e t lo faccio variare tra e b allora se lo voglio vedere come sostegno di una curva attenzione io duplico duplico qua l'intervallo a b e una t che sta qua dove la vanno? la vanno nel punto che nel grafico sta sopra t quindi che coordinate a? t f di t quindi un modo standard e tranquillo diciamo canonico per vedere un grafico di una funzione di una variabile come sostegno di una curva e vederlo in questo modo se f è di classe c con 1 se questa la chiamate fi chi è? de fi è allora questo mettiamolo come trasposto 1 f' di t o no? de fi calcolato in t io devo derivare aspetto a t quindi mi viene 1 f' di t però se vado a fare questa cosa qui non mi funziona bene questa qua mi viene t valore assoluto di t quindi t questa è di classe c con 1? no questa non appartiene a c con 1 perché non ci affattiene chi è? de fi de fi de fi di t questo è sempre trasposto perché dobbiamo vedere come vettore verticale è 1 segno di t ma t deve essere diverso da 0 perché in 0 la funzione valore assoluto non è derivabile e vabbè qua ho semplicemente detto che se questo è la guardo come grafico non è c1 è quello che avete pensato prima voi cioè giustamente questo non è c1 non è c1 ma c'è un modo più intelligente che significa c1 significa che la mia curva la mia legge oraria è smooth cioè non presenta discontinuità né nel vettore spostamento che è fi di t né nel vettore velocità che è fi primo di t definitivi cioè sarebbe a dire io ho un angolo a 90 gradi ci riesco a passare con una macchina con un'automobile senza andare fuori strada c'è la curva Q ci riesco a passare se faccio in modo più furbo sì perché se adesso prendo come esempio prendiamo quest'altra curva qui psi di t uguale t cubo valore assoluto di t cubo allora vediamo un po' t a chi appartiene a quale intervallo appartiene a quale intervallo appartiene a quale intervallo appartiene meno 1 e il valore assoluto di t cubo quanto vale? 1 allora sto qua quindi questa curva quando andate a fare il sostegno parte dallo stesso punto poi t cubo che mi rappresenta? quali sono le equazioni? le equazioni sono x uguale t cubo e ma y è uguale a valore assoluto di t cubo cioè valore assoluto di x quindi quando per esempio t uguale a meno un mezzo t al cubo fa meno un ottavo quindi sono arrivato qua meno un ottavo e y quanto vale? valore assoluto di meno un ottavo e fa un ottavo quindi semplicemente io sto percorrendo lo stesso segmento perché vedete che la y è sempre uguale alla valore assoluto della coordinata x quindi sto x con valore assoluto di x semplicemente siccome qua c'è il cubo io all'inizio la velocità vedremo che la velocità sarà il modulo di definito cioè la norma di definito all'inizio la velocità è molto più elevata cioè quando percorrevamo con la con la fin la velocità era costante allora se la velocità è costante tu arrivi alla curva gomito ti schianti oppure vai fuori stante invece qua all'inizio tu stai percorrendo questa con una velocità anche più elevata però che succede che mano a mano che ti avvicina a questo punto vedi la curva gomito è rallejo adesso vediamo un po' chi è dpsi chi è dpsi beh è 3t quadro poi c'è poi c'è poi c'è questo lo possiamo scrivere come t quadro per il valore assoluto di t e qua mi viene 3t quadro per il segno di t ma questo va bene anche se t è 0 perché se t è 0 chi è questa funzione 3t quadro segno di t la funzione 3t quadro segno di t fa così tra meno 1 e 1 fa così va bene ovviamente deve essere una funzione dispara però vedete benissimo che è una funzione cioè questa è la parabola 3t quadro con un ramo girato verso il basso però vedete benissimo che questa funzione è in 0 e continua il segno è discontinuo però quando lo motivo del 3t quadro la funzione prodotto diventa continua perché qua il limite da sinistra è 0 il limite da destra è 0 il valore del punto è 0 perché da sinistra devo fare il limite di meno 3t quadro da destra devo fare il limite di 3t quadro ma sempre 0 viene perché in 0 vale 0 per 0 che fa 0 quindi chi è la velocità scalare? la definizione si chiama velocità scalare la norma di definiti questo per ogni curva allora che cosa succede? qua se vado a fare la velocità scalare di questa curva di prima nel caso dell'esempio qua fi è una curva in generale qua nell'esempio abbiamo preso due curve che abbiamo chiamato fi e psi che hanno lo stesso sostegno questa è c0 ma non c1 quest'altra invece è c1 eppure hanno lo stesso sostegno qual è la differenza? il punto ingriminato è questo punto qua 0,0 se andate a vedere quando andate a fare qua la velocità per t diverso a 0 poi viene radical 2 perché questo è o è 1,1 o è 1,1 quando andate a fare la norma viene 1 al quadrato più meno 1 o 1 al quadrato che fa sempre 1 quindi 1 più 1 fa 2 e poi devo fare la radice di 2 quindi io qua mi sto muovendo con velocità costante uguale a radical 2 tac e poi tac il problema è che in 0 la curva non può essere c1 perché io dovrei cambiare direzione in questa mia legge oraria se lo guardo come fisica dovrei cambiare direzione del moto istantaneamente mantenendo la stessa velocità è possibile con una macchia? no cioè vai per questa ok allora qua invece quindi nel caso dell'esempio qui norma di definito qua siamo sempre nell'esempio e questa è la definizione generale questo è sempre l'esempio qua la norma di definito quindi la velocità scalare viene radical 2 ma sempre per t diverso da 0 sempre per t diverso da 0 per t uguale a 0 la velocità non c'è perché in quell'istante il vettore della derivata non è definito invece qua chi è del ux di t? è 3 radical 2 è 3 radical 2 t uguale quella è la velocità scalare come vedete come vedete quando t è 1 o meno 1 qua la velocità è tripla è 3 radical 2 qua invece è solo radical 2 quando invece sto vicino a 0 la velocità questa velocità qua questa è sempre radical 2 questa invece si avvicina a 0 cioè che significa io parto con velocità tripla in un caso parto lento però con velocità costante non mi interessa che ci sia la curva al gomito quando arriva la curva al gomito siccome la norma è ralentata vado a sbattare cioè andare a sbattare che significa? significa che per girare la mia curva non può essere c1 ma deve essere solo c1 quindi devo fare questo movimento repentino che nella realtà mi porterà per questa perché io in quel caso me ne continuo con la tangente non lo riesco a fare invece in quest'altro caso io parto con una velocità addirittura tripla però vedo la curva al gomito e quindi già quando t è uguale a meno 1 mezzo la mia velocità è di meno di quell'altro che è 3 quarti radical 2 poi continuo a frenare che succede quando arrivo nella curva al gomito praticamente la velocità è quando t è uguale a 0 quando è questa la velocità? è 0 il fatto che praticamente la velocità sia 0 mi consente di cambiare direzione senza pagare pegno perché la velocità è 0 e poi una volta cambiata direzione riparto sempre con questa curva però tutto quanto le due funzioni che ottenono le due funzioni coordinate così sono tutte e due di classe C1 e quindi la curva di classe C1 chiaro? questo corrisponde alla realtà quando tu c'è veramente una curva al gomito prima di tutto non è mai così non è mai perché la strada ha uno spessore c'è una larghezza però quando la curva è veramente stretta siccome tu la devi passare con un'auto che deve fare dei movimenti C1 allora che fai? quando vedi la curva al gomito veramente rallenti poi più la curva è stretta e più l'immagine è piccolo veramente nella curva giri piano 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 e poi dopo riparti e riesci quindi è possibile questo esempio cosa ci dice? che è possibile avere un sostegno con dei punti angolosi perché è un grafico di una funzione che ha dei punti angolosi ma questo sostegno può essere diciamo il sostegno di una curva di classe C chiaro? o allora questo secondo voi noi lo vogliamo o no? tendenzialmente no perché? perché allora io se la curva di classe C1 non so neanche se il sostegno non posso neanche escludere che abbia dei punti angolosi io se ci sono dei punti angolosi ci devono stare dove dico io e li devo controllati altrimenti non ci rivolgo allora devo dare un'altra definizione allora devo dare qua due definizioni chi è il versore tangente? del phi fratto la sua norma fratto cioè il vettore velocità del phi si chiama anche vettore velocità il modulo è la velocità scalare e la direzione è il versore tangente allora phi però per poter fare il versore tangente qual è la condizione necessaria e sufficiente? che il d phi in modulo sia il modulo ci deve stare e poi deve essere diverso da zero se no come faccio a dividere? quindi phi si dice una curva di classe C1 si dice regolare se se per definizione d phi di t è maggiore di zero per ogni t quindi una curva regolare è una curva la cui velocità scalare non si annulla mai ovviamente non annullandosi mai per il trema di base c'è anche un minimo positivo questa è una funzione continua se non è mai nulla sull'intervallo a b ha un minimo che necessariamente è così invece questa è una curva regolare? è C1? si è regolare? no per poter passare per l'origine dove c'è il punto angoloso deve per forza fare avere la velocità è in zero vedete questo perché per forza io non l'ho dimostrato cioè ho dimostrato che io riesco a passare il punto angoloso annullando la velocità perché se passo il punto angoloso devo per forza annullare la velocità perché questo qui il versore tangente non dipende dalla curva regolare che ha il sostegno ma dipende solo dal sostegno cioè se il sostegno è questo in questo punto il versore tangente è sempre questo la tangente è sempre questa poi il versore tangente dipende se sto andando dal verso di percorrenza se sto andando in un verso o se sto andando nell'altro verso chiaro? quindi il versore tangente o è siccome è una direzione quindi c'è lunghezza 1 o è questo o è questo o è l'uno uno dei due chiaro? quindi questo è questa è la situazione e non dipende dalla curva no? ovviamente qui il versore tangente chi è? non c'è perché in questo punto abbiamo come versore tangente l'uno e l'altro cioè se il sostegno non ha diciamo è localmente il grafico è una funzione di classe C1 quindi non ha punti a colosi ma si potrebbe dimostrare che il nostro versore tangente è sempre lo stesso ed è definito intrinsecamente quindi dipende solo dal sostegno non dipende dalla curva regolare se invece la curva diciamo se il versore tangente non c'è in certi punti allora però nonostante questo riesce ad avere delle punte di classe C1 che è il base ok? va bene allora vediamo un po' che ora è? ok abbiamo ancora una decina di minuti ok quindi facciamo prima un riepiloco perché poi quando la roba è troppa dopo uno si confusse abbiamo definito le curve cosa sono le curve? delle funzioni da un intervallo chiuso della retta reale a valori in R minimo deve essere continuo minimo se no non se ne parla proprio poi possono essere aperte allora l'immagine si chiama sostegno quindi noi normalmente nella curva disegniamo l'intervallo di partenza e il sostegno oppure direttamente il sostegno e basta perché quello possiamo disegnare il grafico è difficile da disegnarlo potremmo riuscire a disegnarlo solo per le curve da R in R2 che il grafico sta in R3 però praticamente non ci avrebbe senso almeno invece disegniamo il sostegno e pensiamo al fatto di percorrere quel sostegno a T pensiamo come se fosse il tempo quindi alla curva come una legge oraria è la controparte di una tematica di una legge oraria in fisica la curva può essere più regolare può essere di classe C1 e quindi abbiamo il vettore delle derivate cioè lo jacobiano di Φ che è il vettore delle derivate perché la variabile è 1 vettore C e questo si chiama vettore velocità uno dice beh se la curva che di classe C1 è più liscia quindi il sostegno sarà liscio no il sostegno potrebbe lo stesso avere dei punti alborosi lo abbiamo visto con un esempio però in realtà questo quando è possibile si deve per forza pagare col fatto che il punto angolo lo so io lo devo passare con velocità nuova allora se io mi restringo a do la definizione di versore tangente cioè velocità fratto velocità scalare e mi restringo alle curve regolari cioè le curve che hanno velocità scalare sempre positiva allora effettivamente una curva regolare questo non ce lo può avere nel sostegno perché perché è un punto in quel punto il versore tangente non ci sta il versore tangente in realtà dipende solo dal sostegno ok non dipende dalla curva regolare che lo viene adesso però in questi cinque minuti che rimangono andiamo a a fare un esempio più semplice di curva allora andiamo a fare un esempio semplice semplice allora andiamo a prendere questa curva qui fi di t uguale coseno di t seno di t chi è questa curva? ho una curva altro non è che quella che abbiamo chiamato fino a qualche settimana fa una parallelizzazione quando tu la parallelizzazione la vedi al variare di t diventa una curva allora t lo facciamo variare per esempio tra 0 e 2 pi chi è il sostegno di questa curva? quale? quello di centro origine e di raggio 1 percorso come? percorso in senso anti-orario se ci pare caso basta fare che significa percorso immerso poi daremo la definizione precisa ma significa far crescere t allora se t è uguale a 0 sto nel punto 1,0 se t è uguale a ε dove sto? nel primo quadrante quindi mi sto muovendo verso facciamo un senso adorario o allora in una legge oraria come si definisce lo spazio percorso? come si calcola lo spazio percorso? in una legge oraria per calcolare lo spazio percorso in visita come fa? chi è lo spazio? allora in un modo rettilineo uniforme chi è lo spazio percorso? la velocità costante qual è la velocità? scalare per il tempo e se il modo non è rettilineo uniforme dovete fare chi è lo spazio? l'integrale della velocità scalare rispetto al tempo noi chiamiamo lunghezza della curva per definizione l'integrale tra a e b di d fi di t in d t perché questa chi è? la velocità scalare la sto integrando rispetto al tempo e che cosa otterrò quando faccio la reti tra a e b? è lo spazio percorso no vediamo se funziona questa è una definizione quindi non c'è nulla da capire allora partiamo dagli esempi più elementari per vedere se questa definizione corrisponde a quello che ci aspettiamo quando dovrebbe essere questa lunghezza questo è un cerchio di raggio 1 quando è lunga la circonferenza? quante volte viene percorsa la circonferenza? una volta solo perché la curva è semplice parte da 1,0 fa un giro allora andiamo a vedere calcoliamo chi è d fi questo come al solito è trasporto eccolo chi è d fi è meno cos t meno sen t scusate cos t quindi chi è la velocità? la vedete che è questa? come si chiama questo? moto? circolare uniforme e infatti perché è uniforme? perché se vado a calcolare la norma di defi di t quanto mi viene? 1 quindi la velocità a scalare mi viene costante ovviamente guardate facciamo una bella cosa mettiamoci anche una bella r r r e qua mi verrà meno r sen t e qua mi verrà r costi e la velocità quanto verrà? r quindi la velocità è costante allora chi è la lunghezza in questo caso l di fi di t è uguale all'integrale tra 0 e 2 pi greco di che cosa? di r in dt perché la velocità è costante r e quanto fa? 2 pi greco r funziona? in questo esempio sì perfettamente perché girare attorno a una circonferenza di lunghezza 2 pi greco a r con velocità costante r ci vuole un intervallo di tempo di 2 pi greco 2 pi greco vedete funziona perfettamente ma allora prendiamo l'esempio di prima chi era psi di t? era questa che dpsi era era 3t quadro 3t quadro segno di t norma di t psi era 3t quadro radica al 2 vi ricordate? e chi era il sostegno di psi? il sostegno di psi t appartamento a meno 1 o non lo restito qua era era erano questi due segmenti no? ora quanto è lungo il suo segmento? 1 1 la diagonale è lunga radica al 2 per 2 e qua 2 radica al 2 allora io per calcolare la lunghezza di questa curva che devo fare? devo fare due volte perché la funzione è pari integrare tra 0 e 1 quindi invece di fare l'integrale tra meno 1 e 1 faccio due volte l'integrale tra 0 e 1 di che cosa? di 3t quadro radica al 2 indettito ma questo mi viene 6 radica al 2 quanto fa l'integrale di t quadro? t cubo terzo tra 0 e 1 fa un terzo quanto fa il prodotto? 2 radica al 2 quindi lo vedete che anche se la mia velocità varia la lunghezza dipende dalla curva o dipende solo dal sostegno? allora dipende dalla curva però in certi casi dipende solo dal sostegno perché attenzione che la risposta è un po' più sud se io qua ci metto 4π qua mi viene 4π qua mi viene 4πr e come vedete il sostegno non è cambiato il sostegno è sempre questo però la lunghezza è raddoppiata ma perché? perché? non perché sia cambiata veramente ma perché il sostegno l'ho girato 2 volte allora quando è che io posso aspettarmi che la curva la lunghezza della curva non la lunghezza della curva si definisce sempre così allora tiriamo un attimo le somme poi ci fermiamo per oggi su quelle funge ci fermiamo facciamo poi esercizi interali la lunghezza si definisce così sempre così ok? però per definire la lunghezza mi serve che la curva sia regolare no perché la curva regolare mi serviva per non avere i punti angolosi del sostegno ma la curva va benissimo per farci la lunghezza infatti la lunghezza tiene 2 radicature quindi per fare la lunghezza la curva è più che sufficiente che sia di classe C1 potremmo dare la definizione di lunghezza di curve rettificabili anche per curve di classe C0 però io ho una mezza intuizione che la lunghezza della curva non dipenda dalla curva masuola dal sostegno perché? perché se la faccio se prendo quei due esempi di prima se la percorrevo la velocità costante la lunghezza è la 2 radica 2 se la percorrevo la velocità variabile qua la lunghezza è sempre 2 radica 2 anche qui se troviamo una parametrizzazione diversa potremmo vedere che effettivamente la lunghezza è sempre 2 radica 2 però se la faccio tra 0 e 4 pi che è 4 pi greco r scusate è la 2 pi greco r però se la faccio tra 0 e 4 pi greco r però perché? non è che è cambiata la lunghezza della circonferenza semplicemente che la circonferenza è stata percorsa due volte allora quali sono le curve per le quali io posso aspettarmi che la lunghezza non dipenda dalla curva masuola dal sostegno quali? per le curve semplici semplici se vi ricordate vuol dire percorso una volta solo o è aperto o è chiuso ma è percorso una volta solo ovviamente questo sarà il teorema che faremo la prossima volta questo almeno direttamente lo facciamo cioè due curve regolari semplici con lo stesso sostegno c'è la stessa lunghezza sono equivalenti quindi c'è la stessa equivalenti no però c'è la stessa lunghezza se parto dallo stesso punto sono pure equivalenti però questo lo vediamo la prossima lo vediamo tra un paio di tutti adesso quindi con la teoria qua ci fermiamo ok